Tragedia nella notte e lungo il tratto a retino dell'autostrada del sole. Poco prima del casello di Monte San Savino, un'auto, una Fiata 500 intestata ad una ditta, si è schiantata contro un camion, finendo per incastrarsi sotto il rimorchio del mezzo pesante. La vettura nel violento impatto ha preso fuoco, un uomo è rimasto carbonizzato nel rogo. E' ancora difficile ricostruire l'identità della persona deceduta, probabilmente un uomo il cui corpo è stato divorato dalle fiamme. Anche un camionista, 40 etenne di Castella Mare di Stabia, è rimasto coinvolto nel tamponamento. L'uomo è stato soccorso, trasferito in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo con un'ambulanza, più per lo shock che per le ferite riportate nello scontro. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118. Complessa nella notte la gestione del traffico nella corsia sud della 1, completamente interrotta la viabilità in direzione sud per alcuni momenti, con uscita obbligatoria ad Arezzo e rientro a Monte San Savino, poi il traffico è stato riaperto ad una sola corsia. I vigili del fuoco hanno operato per ore questa notte fino alle 3, per spegnere le fiamme prima per bonificare l'aria poi, ed infine per estrarre il corpo carbonizzato. Il cadavere è stato sequestrato come l'auto semidistrutta e il rimorchio coinvolto nel sinistro.